Nel 1756, Annibale degli Abbati Olivieri Giordani donò alla città di Pesaro la sua ricchissima libreria, insieme alle raccolte archeologiche che aveva riunito durante la sua vita. Dalla donazione hanno avuto origine la Biblioteca Oliveriana e l'annesso Museo archeologico, attualmente ospitati a Palazzo Almerici, in Via Mazza. Al primo piano è collocata la sala affrescata denominata dello Zodiaco, che contiene le collezioni di avori, bronzetti, cammei, monete, medaglie e placchette. La Biblioteca possiede una grande carta nautica, databile intorno al 1508, considerata dagli esperti per le notevole dimensioni e per la ricchezza dei particolari toponomastici di particolare importanza. Il Museo archeologico Oliveriano ospita numerosi oggetti antiquariali di diversa provenienza. Reperti di epoca picena, bronzetti etrusco-italici, ceramiche greche, materiale di vario genere di epoca romana. Dalla necropoli di Novilara proviene la stelle rinvenuta nel 1860 e rappresenta il documento più importante della cosiddetta civiltà picena di Novilara. Si tratta di un blocco in arenaria di forma trapezoidale, figurata su entrambi i lati e datata al VII-VI secolo a.C. Su di essa è raffigurata una scena di battaglia, in cui appaiono una grande nave dalla vela quadrata, munita di timone centrale e prua zoomorfa, e due imbarcazioni più piccole, poste in basso, sulle quali sono state incise le figure di uomini armati con elmo conico e scudo ovale. La scena delineata è stata interpretata come un ex voto che ricorda l'attacco di pirati ad una nave oneraria. La grande nave oneraria spinta dal vento e da 15 rematori è stata attaccata da una veloce imbarcazione di pirati, ma la sua piccola imbarcazione di scorta, piena di uomini armati, riesce a difenderla e a salvare il carico. Le scene riprodotte agli angoli superiori della stele sembrano mostrare la consistenza del carico. Animali, cereali provenienti da un campo arato, schiavi, che giustificano la frequentazione del litorale pesarese da parte di navi forestiere, dovuto appunto alla produttività del territorio.